...con il numero 24, Lola Mauro, con il numero 26, Cristian Pugnata, con il numero 48, Mirko Alto Lucci e con il numero 77, Nicolò Bergo. Ed ora, gente del Pippo, in alto cuore e fuori la voce, non siete soli, non siete soli, non siete soli. Cristian Pugnata, con il numero 48, Mirko Alto Lucci. grazie 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 grazie